Ma si può essere così fortunati da svegliarsi con questa vista così poetica del maestro? Ah! Sì, sì, parlavo di... no, parlavo di lei maestro, parlavo di lei maestro. Pensaranno, sicuramente hanno lo stesso papiglione, la stessa giacca. No, si è cambiato, si è cambiato, si è cambiato. Buongiorno a tu, vuole dare il buongiorno a tutti maestro. Buongiorno a tutti, tutti, tutti e tutti. Dovete sapere che ieri il maestro voleva entrare da qua, non aveva visto il vetro, è andato a sbattere e sembra che ha fatto un incontro con Conor McGregor stamattina. Oggi sono entrato dalla porta. Oggi è entrato dalla porta giusta maestro, meno male. L'appuntamento è sempre questa sera alle 18.45 su Rai 2. Ospiti con noi, gli articolo 31, i cugini di campagna e Giorgia. Non mancate. Musco selvaggio ogni giorno 6.45 su Rai 2. E non l'ho pagata per farvelo dire. Ho dovuto fare delle prestazioni. Cosa? No! E per tutti i regaz che sono a Sanremo ci vediamo sotto l'hotel Globo per salutarci, per salutare il maestro, per salutare tutti. Ho messo dei fiori tristissimi e finalmente abbiamo i fioristi ufficiali di Sanremo. guardate che spettacolo, guardate che roba, ma sono pazzeschi ragazzi, ma sono bellissimi. E non è ancora finito. Non è finito, grazie ragazzi, veramente belli, complimenti. Spera che lì come si chiamano. Gigi contro il drone, vai Gigi. Vai Gigi, prendilo. Ecco il maestro Vessicchio, multitasking, come Gianni Morandi ieri, diciamo. Maestro, faccio io? No, faccio io, dai. Mi sento in colpa, se no, ma è il maestro. In bocca al lupo per stasera amici miei, bacino, bacino, baccate tutto. E abbiamo con noi Giorgia. Ok. Cucini di Campania Muschio Selvaggio. C'è anche Valerio Lundini, che è un grandissimo fan di Muschio Selvaggio, vero? Non è un zona d'uomo? No, no, mi ha riportato tutto. Infatti ha fatto tardi perché... Mi ricordavo che fossi lì. No, no, no. 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 Grazie a tutti